E come commissario io mi sento garante dei cittadini. Quindi può passare tutto il tempo che vuole ma finché io non ho assicurate le condizioni di sicurezza, di impatto ambientale e di rispetto della salute dei cittadini nella città e nel porto di Piombino io non firmo niente. Il rigassificatore che il governo vuole a Piombino al centro della seduta del Consiglio regionale. Proprio in queste ore il presidente della giunta Eugenio Gianni, nominato commissario, insedia nella cittadina costiera l'ufficio commissariale. Massima garanzia per la comunità locale, dice Gianni, altrimenti non arriverà la firma da parte della regione. Poi Gianni invita il fronte del NOA a compattarsi nella richiesta di interventi compensativi per Piombino e la Val di Cornia. Interventi e priorità che il presidente della giunta nell'informativa al Consiglio regionale racchiude in un memorandum. Sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentono di evitare il traffico che va verso il porto nella città, sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica, ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno. E poi il rilancio della siderurgia con forno elettrico, non certo con l'inquinante alto forno, e naturalmente anche il completamento dello stesso porto, che finora è stato realizzato a spese della regione, né del Comune né dello Stato, della regione toscana, che ci ha messo 150 milioni per realizzare quella banchina dove andai il ricazzificatore, e ancora ci sono opere per circa 120 milioni, c'è la seconda banchina e tutta una serie di opere complementari, su cui nel momento in cui si utilizza quel porto il governo sicuramente si farà carico di realizzarle. Al termine dell'articolato dibattito l'Aula approva il documento presentato dal PD. L'interesse nazionale che riguarda Piombino è prima di tutto quello di rilanciare la siderurgia e di ridare occupazione, è quello di portare avanti le bonifiche, di infrastrutturare meglio il porto, sia dal punto di vista della viabilità, sia dal punto di vista ferroviario. Queste sono le priorità che con la nostra risoluzione noi abbiamo posto al governo e come contributo al Presidente Gianni, che è anche il commissario per la realizzazione eventuale del ricazzificatore. L'opera, aggiunge Vincenzo Ceccarelli, può essere fatta solo a patto che vengano rispettate alcune precondizioni. Garanzie per quanto riguarda la sicurezza dell'eventuale presenza della nave metaniera nell'ambito del porto, la certezza per quanto riguarda l'operatività del porto in tutte le sue funzioni, ma soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con l'isola Adelba, garanzie per quanto riguarda la parte ambientale delle acque e poi i tempi certi di un'eventuale presenza della nave in porto. Il documento, come detto, passa a maggioranza. 22 voti favorevoli, 12 astenuti e uno contrario a quello del portavoce dell'opposizione, Marco Landi. Il Presidente Gianni si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera, che dovrebbe essere ricompensata a quanto ci riporta il Presidente in questa comunicazione della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatto, e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta, di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente. Ecco le posizioni degli altri gruppi consigliari. Noi dobbiamo proseguire nell'azione di diversificazione dell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'Europa, lo dobbiamo fare dando il nostro contributo come Regione Toscana, come Italia, Piombino è stata scelta dal Governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo. Riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana, non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo, questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale, un intervento similare si è già sviluppato tra Piombino e Livorno, è evidente che siamo nella costa Toscana, è evidente che c'è quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro, ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza. Io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi, questa deve essere una scelta importante. Noi siamo abituati alle novelle del presidente Gianni, noi però guardiamo i documenti, per il rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni, un grande numero di tecnici hanno dovuto valutare tutte le criticità e tutti gli aspetti, io non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere così sicuro riguardo anche alla sicurezza, perché mettere a repentaglio la sicurezza di un'intera città che diventerebbe non solo zona di interdizione, perché se si proiettano sulla città di Piombino le zone di interdizione previste sulla nave ancorata a 12 miglia da Livorno si crea una zona di interdizione molto bassa e non riesco a capire come faccia a eludere lui queste zone di sicurezza. Tra l'altro se anche le elude il governo nazionale ci sono delle norme internazionali di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere eluse. Quindi oggi vi vengo a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione toscana è giusto che assuma e nessuno dubisa che da governatore abbia a cuore la città di Piombino, peccato che da commissario lui non debba decidere, hanno già deciso altri per lui, ha deciso tre mesi prima il ministro Cingolani senza sentire nessuno né tantomeno il sindaco di Piombino che quell'opera si farà e si farà lì. E Eugenio Ciani ha 120 giorni di tempo per fare l'opera, quindi non è che oggi ci può tranquillizzare. Sul decalogo ancora peggio perché oggi lui legge in aula 10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per tre anni e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi. Sicuramente non con la città di Piombino perché il sindaco Ferrari non sa niente e non è a conoscenza di questi 10 punti. Il mondo della comunicazione in evoluzione a Firenze è riunione in presenza e a distanza tra i corecom delle varie regioni italiane, i comitati di controllo sulle comunicazioni. L'obiettivo è quello di fornire servizi sempre più aggiornati ai cittadini. Il mondo sta cambiando, le comunicazioni stanno cambiando, le deleghe sono molto differenti rispetto al passato. Ci sono anche differenze tra i corecom regionali perché poi le funzioni proprie di ogni corecom sono differenti mentre le deleghe che vengono date da Agicom sono simili. Il nostro obiettivo è quello di cercare di trovare le condizioni per offrire sempre un servizio migliore ai cittadini. Il lavoro che svolgono i comitati regionali, i loro presidenti è un lavoro importantissimo e il nostro obiettivo è cercare di mettere un ulteriore mattoncino per fare in modo che tutto possa sempre funzionare al meglio. Non è un accordo semplice, è un accordo che richiede ancora lavoro, approfondimento e oggi questa è una giornata di confronto e di ascolto per sentire le istanze che arrivano direttamente dai comitati regionali. L'incontro di Firenze rientra nell'ambito dell'accordo quadro siglato con la Agicom, l'autorità garante delle comunicazioni in Italia. È un importante incontro interistituzionale ed è l'occasione per noi core con comitati regionali per le comunicazioni di affrontare i temi di questa comunicazione che cambia. La nuova tecnologia che cambia la velocità della luce richiede necessariamente dei nuovi modelli per poter affrontare le modifiche e quindi questo diventa un primo passaggio per coordinare i comitati regionali con i consigli regionali. Non solo, entro la fine dell'anno dovrà essere firmato il nuovo accordo quadro tra Agicom, che è l'autorità garante per le comunicazioni di livello nazionale, e i core con le autorità locali e quindi visto che i consigli regionali hanno un ruolo da protagonista nella stesura di questo nuovo accordo quadro diventa importante questo momento di confronto. La situazione carceraria in Toscana con la relazione per l'attività 2021 del garante dei detenuti. Arriva in aula e il consiglio dice sì al documento che programma anche le attività per il 2022. Ad illustrarlo il presidente della commissione affari istituzionali, Giacomo Bugliani. Un quadro del sistema carcerario toscano evidenza le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute non soltanto fisica ma anche psichica della popolazione carceraria e il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal garante. Il quale fa anche un auspicio, un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio garante lo facciano al più presto anche in virtù di una più intensa collaborazione che il garante dei detenuti ha intrapreso con il provveditore regionale del Ministero della Giustizia con il quale nel corso del 2021 è stato proprio siglato un protocollo. Un impegno a implementare l'assistenza ai detenuti sotto il profilo della tutela della salute negli istituti di pena, un impegno a prendere in considerazione la popolazione carceraria femminile soprattutto per la valutazione di misure alternative alla detenzione e anche un impegno congiunto con la prima commissione del Consiglio regionale che è quella di fare visita a tutti gli istituti di pena della Toscana. La prima commissione ha già iniziato con la visita al carcere di Solliciano, il carcere più importante dal punto di vista numerico che abbiamo in Toscana, proseguirà nei prossimi mesi con le visite a tutti gli istituti di pena del nostro territorio regionale. Il documento passa a maggioranza, la Lega spiega così le ragioni del no. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario, al di là dei detenuti anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del garante che troviamo non condivisibile in numerose sue parti. In particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli, ma è il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro Paese. Quindi sì, attenzione, tutela, soprattutto sanitaria, quando invece sappiamo che ci sono dei rischi di ridimensionamento del servizio sanitario all'interno delle carceri, nei confronti dei carcerati, ma anche l'attuazione del principio chi sbaglia paga. Un principio fondamentale perché nel nostro Paese si tende troppo spesso a non far pagare a chi ha sbagliato.